E la mattina, come ripassarono, videro il fico, seccato fin dalle radici. Or, visto ciò, i discepoli esclamarono meravigliati, come se è seccato subito. E Pietro, rammentandosene, gli disse, maestro, guarda, il fico da te maledetto è seccato. Ma Gesù rispose loro, abbiate fede in Dio. In verità vi dico, se avrete fede e non vacillerete nel vostro cuore, ma crederete che avvenga quanto avete detto, farete non solo come è stato fatto al fico, ma quando anche diciate a questo monte, levati e gettati in mare, sarà fatto. Perciò vi dico, qualunque cosa chiederete con la preghiera, abbiate fede di ottenerla e l'otterrete. E quando state a pregare, se avete qualche cosa contro qualcuno, perdonate, affinché anche il vostro Padre, che è nei cieli, perdoni i vostri falli. Che se voi non perdonerete, nemmeno il Padre, che è nei cieli, perdonerà a voi i vostri peccati. Ed avvenne che in uno di quei giorni tornarono a Gerusalemme. Or, quando Gesù fu entrato nel cortile del Tempio e vi stava passeggiando, s'adunarono i principi dei sacerdoti e gli iscrivi con gli anziani del popolo. E mentre egli insegnava la folla e la evangelizzava, gli si accostarono e presero a dirgli, Dici, con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato il potere di compiere tali opere? Ma Gesù rispose loro, Anch'io vi farò una domanda. E se mi risponderete, io pure vi dirò con quale autorità faccio questo. Ditemi, il battesimo di Giovanni, donde era? Dal cielo o dagli uomini? Or quelli ragionavano fra di loro dicendo, Se rispondiamo dal cielo, egli dirà, Perché non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura del popolo. Tutti infatti tenevano Giovanni per vero profeta. Risposero quindi a Gesù con dire, Non sappiamo d'onde venga. E Gesù a loro, Nemmeno io dico a voi con quale autorità faccia tali cose. Ma che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Ora accostatosi al primo disse, Figlio, va a lavorare oggi nella mia vigna. Ed egli rispose, Non ne ho voglia. Ma pentitosi ci andò. Accostatosi poi anche al secondo gli disse lo stesso, E questi pronto? Vado signore. Ma non andò. Or quale dei due ha fatto la volontà del padre? Il primo, risposero. Disse loro Gesù, In verità vi dico, I pubblicani e le meretrici vi andranno avanti nel regno di Dio. Perché è venuto a voi Giovanni nelle vie della giustizia, E non gli avete creduto. Ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto. Mentre voi, Nemmeno dopo avere veduto queste cose, Vi siete pentiti per credere a lui. Indi prese a dir loro per via di parabole in presenza del popolo. Udite un'altra parabola. C'era un padrone, Il quale piantò una vigna, La cinse di siepe, Vi scavò un frantoio, Vi edificò una torre, E la diede a lavorare ai coloni, Poi se ne andò in lontano paese per molto tempo. Quando si avvicinò la stagione dei frutti, Mandò i suoi servi dai coloni per ricevere i frutti della vigna. Ma quelli, Preso il primo, Lo batterono e lo rimandarono a mani vuote. Allora ne mandò loro un altro. Ma quelli, Picchiato anche questo, Lo ferirono nel capo e lo maltrattarono, Rimandandolo a mani vuote. Di nuovo ne mandò un terzo. Ma essi cacciarono anche questo dopo averlo ferito e lo ammazzarono. Mandò ancora altri servi in maggior numero dei primi, E coloro li trattarono allo stesso modo, Chi batterono, Chi uccisero, E chi lapidarono. Disse allora il padrone della vigna, Che dovrò fare? Non restandogli che l'unico figlio prediletto, In ultimo, Mandò anche lui da quelli dicendo, Manderò il mio figlio di letto, Forse quando lo vedranno, Avranno riguardo. Ma i coloni, Visto il figlio, Dissero fra loro, Questo è l'erede, Venite, Ammazziamolo, E avremo la sua eredità. Difatti, Presolo, Lo cacciarono fuori della vigna, E l'uccisero. Ora, Quando sarà di ritorno, Che farà il padrone della vigna a quei coloni? Verrà, Farà malamente perire gli scellerati, E allogherà la vigna ad altri coloni, Che gliene rendano il frutto a suo tempo. Ed essi, Udito ciò, Esclamarono, Non sia mai. Ma egli, Fissatili, Disse, Non avete letto nelle scritture? Che vuol dire adunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno riprovata È divenuta pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore Ed è meraviglioso agli occhi nostri. Per questo vi dico, Vi sarà tolto il regno di Dio E sarà dato a gente che ne produca i frutti. E chi cadrà sopra questa pietra Si sfracellerà. E quello sul quale essa cadrà Sarà stritolato. I principi dei sacerdoti, E i farisei, Udite le sue parole, Compresero che parlava di loro E come per essi Avesse detta questa parabola. E cercarono di mettergli le mani addosso. Ma ebbero paura del popolo Che lo teneva quale profeta. E lasciatolo Se ne andarono.